se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi dei completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bella regà, qua è Savix che vi parla allora ragazzi oggi voglio portare la DMO quindi questo video purtroppo è solo per chi gioca da PS4 ragazzi quindi la DMO cos'è? serve per importare veicoli ragazzi online fatti con 6 wizard noi di xbox non abbiamo 6 wizard però mi sono intestardito e ho voluto portarvi lo stesso questa clip e ringrazio il founder della clip regà, team Teschi link in descrizione per qualsiasi cosa o spiegazioni più approfondite del video per esempio come preparare le auto su 6 wizard eccetera eccetera ragazzi lascio il link in descrizione entrate nel gruppo telegram del founder è veramente una brava persona dopo ciò possiamo iniziare con il video tanto per iniziare regà una volta in storia dobbiamo andare su impostazioni e andare a decidere se vogliamo stare noi in manuale o in assistita perché dovremo partecipare su qualcuno in mira differente e a questo punto ragazzi mi raccomando togliete l'auto salvataggio come avete visto nella clip a questo punto voi non lo vedete perché il founder che mi ha registrato la clip non aveva la possibilità di far vedere la schermata PS ma voi dovrete schiacciare due volte PS e andare nelle impostazioni di rete regà e mettere l'MTU a 6 e 30 a questo punto in basso a sinistra aspettiamo che ci arriva il messaggio di ammunition dopodiché facciamo lo switch e andiamo da Franklin a sto punto una volta spawnati regà dobbiamo attendere che ci squilla il telefono una volta che ci squillerà il telefono possiamo pure buttare giù la chiamata e fare il trucchetto ragazzi per aumentare il livello sospetto che vi lascerò in descrizione qua sotto al video a questo punto una volta che abbiamo le stelle dobbiamo andare vicino apposta alla polizia e farci arrestare regà niente di più semplice quindi ci avviciniamo alla polizia ci corriamo in faccia e appena regà i tipi ci stanno arrestando che ha le mani tirate su dovete schiacciare pausa a questo punto ascoltatemi bene regà dobbiamo fare uno step abbastanza velocemente quindi dobbiamo cliccare due volte su seleziona personaggio X dopo di che velocemente dobbiamo andare ad avviare Spotify, YouTube comunque sia un'applicazione ragazzi che ci fa disconnettere dal gioco quindi a questo punto dobbiamo ritornare in game al terzo boom che sentiamo ragazzi i classici lampi di GTA dobbiamo partecipare sul nostro amico aspettare circa dagli 8 ai 10 secondi e poi accettare tutti i messaggi dopo di che ragazzi dovremo ripartecipare una seconda volta e aspettare che ci despauni il messaggio da solo regà a questo punto dovete spegnere il pad dalle impostazioni della console per 8 secondi dopo di che dovete riaccendere il pad mi raccomando l'amico mira diversa dentro un lavoro da titano ragazzi a questo punto se in basso a destra avete testaionendo a GTA Online vuol dire che state facendo tutto nella maniera corretta a questo punto una volta che spawnerete regà saremo con Trevor annullate questa allerta che vi comparirà e dovete aprire il vostro menu interazione touchpad come volete chiamarlo per andare nella modalità regista a questo punto regà una volta che siamo nella modalità regista semplicemente andiamo ad avviare la modalità regista l'ultima voce in basso a sinistra in questa schermata nera teniamo premuto il pulsante per aprire il menu interazione o touchpad come volete chiamarlo o lo chiamate una volta che spawneremo ci aprirà subito il menu interazione noi a questo punto andiamo su garage e facciamo spawnare il primo veicolo a questo punto dovremo aspettare che in alto a sinistra ci compaiono i contanti regà vi ricordo che questa clip è stata fatta dal team teschi iscrivetevi nel loro gruppo di telegram sono veramente brave persone fanno drop continuamente ragazzi sono veramente veramente simpatici quindi una volta che abbiamo aspettato circa ragazzi due minuti vedremo comparire i nostri soldi in alto a destra a questo punto una volta che sono comparsi i cash regà apriamo il nostro menu interazione touchpad come lo volete chiamare e ci stiamo fermi sul messaggio per tornare alla roulotte ragazzi fondamentale nel frattempo ci deve essere ragazzi un nostro amico che si unisce a noi tramite la crew quindi deve partecipare ragazzi tramite la crew perché se no il glitch non funziona una volta che spawnerà l'amico dentro la lobby dovrà semplicemente salire sul veicolo ragazzi e scendere e guardarlo ok? semplicemente una volta che l'amico è entrato in lobby deve solo salire sul veicolo che sarà il punto vecchio di scambio e poi scendere e stare a una certa distanza e guardare il veicolo non dovrà fare nient'altro a sto punto invece noi dopo che il nostro amico ha fatto questo step ragazzi possiamo di nuovo fare il trick di prima aprendo o spotify o youtube per darci l'errore di rete a questo punto accettiamo il messaggio per riandare nella roulotte e una volta che siamo al casting ragazzi avviamo di nuovo la modalità recista una volta che spawneremo ragazzi dovremo semplicemente aprire il nostro menu interazione andare su garage e star fermi sulla macchina che vogliamo importare a questo punto apriremo direttamente il menu di pausa ragazzi e ci andiamo a unire ragazzi ai membri crew quando saremo nel caricamento appena in alto a destra vediamo la scritta modalità regista ragazzi possiamo pure aprire il menu interazione lo faremo immaginariamente ma funzionerà lo stesso aprite il menu interazione regà e cliccate una volta X a questo punto regà come potete vedere in alto a destra al nostro amico quando noi cliccheremo X comparirà la macchina quindi ragazzi a sto punto non ci resta altro che per salvarle passarle con il classico scambio veicoli spero che i miei video vi piacciono regà lasciate un like lasciate un commento iscrivetevi in tutti i miei gruppi telegram iscrivetevi nel gruppo telegram teschi ragazzi e niente lasciate un like lasciate un commento sostenete Xavix e sbada bam regà al prossimo video buona visione iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale grazie a tutti